E' il motociclista Gabriele Minnelli l'aretino dell'anno 2017 scelto dai lettori del Corriere di Arezzo. E' stato un onore effettivamente essere stato candidato e addirittura aver vinto, non me lo sarei mai aspettato. Evidentemente non pensavo che la mia città sentisse così i motori come la Parigi Dakar, eccetera. E' stato veramente una sorpresa e un grande riconoscimento per me. Che anno è stato il 2017? E' stato un grande anno sull'aspetto sportivo, perché ho fatto quattro rally internazionali, mi sono preparato tantissimo. Non ho vinto uno, ho vinto il Torre Grelli e dopo ho coronato il sogno della mia vita partendo per la Dakar. Quali sono i progetti futuri? I progetti futuri è un anteprima, mi sono già iscritto alla Dakar, chiaramente, nel 2019. Ora partirò per il mondiale Mersugarelli, starò via un mese nelle dune per allenarmi. E penso andrò in Turchia nel transanatorio a agosto. Secondo posto per il poeta e narratore aretino Dario Salvi. Da aretino puro essere stato nominato per l'aretino dell'anno, per me era già un successo, arriva al trentesimo. Poi il discorso del viaggio per Arezzo in prosa è veramente venuto spontaneo, proprio per dare lustro, tra parentesi, alla nostra bellissima città. E questo secondo posto mi orgoglisce veramente tanto e grazie a Corriere Aretino. Infine il podio si completa con Alessandro Bindi ed Alessandro Boncompagni, terzo posto, gli autori del libro Alberto e il Cavaliere che rimò la giostra. Un pezzetto dimenticato grazie al ritrovamento che Alessandro Bindi ha fatto del testo originale di Alberto Cavaliere, che è questo straordinario poeta, scrittore, giornalista, anche un pezzetto della sua vita, anche uomo politico, che nel 1936 scrisse questo poemetto eroicomico, Il Rima, sulla giota del Saracino. Da lì è partita tutta una ricerca, una ricostruzione del testo e della vita di questo autore, e prendendo contatti anche con Mezza Italia, perché da città nuova, provincia di Reggio Calabria, fino a Milano, abbiamo girato un po' il mondo e abbiamo parlato di Arezzo e della giostra anche a persone che non ci conoscevano.